Milan, ora ci vuole coraggio. Ora, caro Milan, cari Ibrahimovic, Mocanda, Furlani e compagnia bella, ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio e ci vuole coglioni. Sì, con Camarta ci vuole coraggio. Infortunio di Morata, cosa fare? Ne parliamo in questo contenuto, intanto benvenuti cari amici di YouTube. Parliamo di calcio, parliamo di Milan, parliamo di questa situazione che si è verificata con l'infortunio di Morata che sarà fuori dalle 2 alle 3 settimane. Quindi anche in ottica fantacalcio, ragazzi, lo rivedremo dopo la sosta. Segnale divino per mettere il Milan in condizione di dire cosa volete fare con i giovani, cosa volete fare con Camarda. tenerlo in C per farsi le ossa. Solo in Italia si usa la parola farsi le ossa in C. Oppure provare, rischiare, così come ha fatto Sinisa con Donna Roma, così come ha fatto chi ha lanciato Del Piero, così come ha lanciato Totti, di buttarlo dentro in prima squadra titolare. Nojovic, Camarda titolare nel Milan a Parma. Come in un Parma-Milan esordì Buffon, in un Parma-Milan esortisce Camarda sperando nella carriera di Buffon. Poesia, ho dato anche un riferimento storico, ragazzi, ho dato riferimento storico. Allora, mi giungono notizie che comunque Camarda ha messo su 8 kg rispetto all'anno scorso di muscoli. Quindi, levatevi i discorsi, levatevi i discorsi, Emma e Gracilino, 8 kg di muscoli in più rispetto all'anno scorso. Segna ovunque, esordisce nei pro doppietta, va a giocare in Youth League, coggette 3-4 anni sopra età, gol. Vince gli europei, fa gol ovunque, noi si ha paura a metterlo in squadra. L'avessero a Barcellona, giocava già da un paio di mesi. Riflettiamo, cosa volete fare, cari amici milanisti? Cosa volete fare al Milan? Perché ora ci vuole coraggio a lanciare Camarda. Sì, ci vuole coraggio. Io lo butto dentro, senza nessun problema, ragazzi. Non fa giocare Jovic, al limite posso far giocare Okafor, perché se l'è meritato. Okafor, prima punta, alternativa Camarda. Ma si porta a Parma Camarda, eh? Si porta, caro Ibraimovic, dalle mille discorsi. Si porta Camarda a Parma, si porta. Bene. Ho sentito Milan, rivoluzione a Parma, rivoluzione per la partita col Parma. Che si deve fare? Amici rossoneri, la formazione, io l'ho detta, l'ho andata a rivedere nel contenuto YouTube che ho fatto. Molto probabilmente sarà quella. Emerson Royal, Tomori, Pavlovich, Ternandez. Reinders, centro-destra, Fofana, centro-sinistra. Se vuoi giocare con Pulisic, devi giocare con Cukueze, Pulisic trequartista, Leao e, ovviamente, Camarda o Okafor. Camarda o Okafor. Cukueze è pronta a entrare, perché è un giocatore molto morale. State tranquilli che vi è fuori. State tranquilli, ha fatto un precampionato super, in una partita l'avete massacrato. Io roba da pazzi, roba da pazzi. Andiamo avanti, però. Andiamo avanti. E poi è giunta oggi, ragazzi, non so se l'avete notata, sentita la notizia, il Barcellona. 60 milioni e contropartite per Leao. In dove si firma? Dove si firma? 60 milioni e contropartite. Ho sentito di delle contropartite, Balde, un altro ragazzino forte, centrocampista. Dove si firma? Posso firmare io? Cardinale, posso firmare? 60 milioni e contropartite. Se fosse vero, caro Mocanda, in questo momento, non so dove sei. Sei a mangiare alla lagosteria. L'ogosteria. Un buon pesciolino. Smetti. Parti. Vai a Baccellona. Chiudi l'affare. Perché sarebbe l'affare dell'anno. L'affare dell'anno. Favorevolissimo. 60 milioni e contropartite. Glielo vuoi da domattina. Le contropartite del Barcellona sono giocatori giovani e di qualità. Non vuoi contropartite? Questi ti danno anche 100 milioni. Tac. Te ne danno 100, te ne danno 80. Oro colato. Vai a prende chiesa. Sistemi a tropedina. Prendi quello che ti serve. E hai fatto un capolavoro. Ibraimovic. Mocanda e Furlani. Un capolavoro. No. I tifosi non si incazzano. No. I tifosi non si arrabbiano se cedano le ao. State tranquilli. Cedete le ao. Prendete le contropartite del Barcellona. Prendete chiesa. Si fa. Fate una grande squadra. Applausi a scena aperta. Ibraimovic. Perché se fosse vero. E voi gli dite di no. C'è un problema alla base. Allora c'è un problema. Avete visto lo squilibrio che porta le ao? Avete visto? Ve l'ho fatto vedere nel contenuto. Bene. Ha uno squilibrio. Mi fa 40 gol. L'accetto. Fa 40 gol. Niente. Porta squilibrio. Fa 40 gol. E allora si cede. Se c'è un'offerta importante si cede. Il Milan non può giocare, essere funzionale alle ao. Tutti corrono per le ao. Vi sembra una cosa? E poi vi posso dire una cosa ragazzi in confidenza. Secondo voi Pulisic l'ha digerita quella sostituzione? L'avete vista la faccia di Pulisic? Attenzione. L'avete vista come a dire? Ah esco io? Ah esco io? Mi son fatto un culo così tutta la partita? Esco io? Quando altri non fanno quello che devono fare e non corano? Esco io? Ragazzi quella faccia a me mi è piaciuta poco. Da addetto ai lavori a me quella faccia mi è piaciuta poco a di Christian Pulisic quando è uscito. Mi è piaciuta poco e attenzione a quella faccia lì ragazzi. Non vorrei si creasse subito dei malumori però lasciamo fare. Iniziatore al campionato non creiamo polemiche. Però qui stiamo a parlare di Camarda ci vuoi coraggio se è realmente arrivata l'offerta per le ao. Via. Io la penso così ragazzi. Non voglio neanche fare un contenuto tanto lungo. Mi è venuta questa ispirazione ho detto ne voglio parlare con gli amici di youtube e sentire nei commenti come la pensa loro. Che cosa hanno da dire perché è fondamentale anche una condivisione. Cioè io tante volte attacco youtube per avere un rapporto con voi. Una condivisione dei miei pensieri con voi che possono essere giusti. Che possono essere sbagliati. Ragazzi io mi attengo a quello che vedo sul campo. Le ao mi creda disequilibri. Io avevo fiducia a le ao eh. Avevo fiducia. Però ragazzi ho visto 3-4 cose che non mi sono piaciute. Leggo stamattina l'offerta del Barcellona. L'ho verificata da varie fonti. Sembrerebbe vera. Quindi signori che vogliamo fare? Mocanda che vogliamo fare? Decidete voi. Ragazzi non dovete decidere ora. Decidete nei commenti. Fate come vi pare. Io mi sono già espresso su questa cosa qua ragazzi. Mi sono già espresso. E purtroppo la penso così. Le avevo dato fiducia eh. Però se deve essere così. Ditemi la vostra. Buona giornata.